La formazione online del Placement Office dell'Università di Siena Come fare un buon CV Tre regole Il CV è un documento in cui racconti chi sei, cosa sai e cosa sai fare. Dovrebbe essere sempre improntato sul settore o l'azienda o l'ambito per cui ti stai candidando. Deve essere breve, corretto e positivo. In che senso positivo? Nel senso che racconti cosa hai fatto e non cosa non hai fatto, cosa c'è e non quello che manca. Non concentrarti su quelli che pensi siano i buchi nel tuo curriculum, ma sulle tue risorse, su quello che sai e su quello che sai fare. È importante che sia corretto, che quindi tu usi il correttore ortografico, attento che tu lo faccia rileggere Anche a qualcun altro, che sia preciso, che sia ben impaginato. Quindi, redatto con la massima accuratezza. Il formato Ci sono tanti formati del curriculum vitae, quello cronologico, quello basato sulle competenze, quello più grafico o anche più creativo ancora, quello scientifico, accademico. Quindi ogni ambito, ogni settore, ogni azienda ha il formato giusto. Oggi pensiamo più al contenuto. Comunque già nel nostro corso online trovi vari formati. Se Leonardo da Vinci, qui c'è il CV di Leonardo da Vinci per Ludovico il Moro del 1482, lui lo ha fatto in una pagina sola. Puoi farlo anche tu. Oggi il curriculum viene letto spesso, mentre siamo in viaggio, mentre, insomma, velocemente dal computer, dal telefono. E quindi è bene che sia tutto concentrato in una sola pagina. Poi ci sono le eccezioni, cioè invece i CV accademici, quelli da PhD, quelli scientifici, sono di solito più lunghi. La foto ce la metto? Classica domanda. Anche questo dipende. A livello internazionale la foto è sempre meno usata. In ambito scientifico e accademico non si usa. In molti paesi ci sono delle leggi contro le discriminazioni, per cui non è proprio opportuno usare la foto. In Italia si usa ancora e qualche volta è indispensabile, come per i profili LinkedIn, per esempio. Quindi bisogna farne una. Ci vuole un po' di distanza, perché il selfie è troppo vicino. Deve essere sobria. L'abbigliamento deve essere adatto al lavoro, come andresti un po' al colloquio. Lo sfondo neutro, come un muro. Meglio se in bianco e nero, o comunque con colori molto neutri. Perché in questo modo stampando il curriculum non cambia nulla. Il contenuto. Allora, un classico curriculum contiene dati anagrafici e contatti, chi sei, cosa sai, cioè la tua formazione, cosa sai fare, cioè le esperienze lavorative extrauniversitarie che ti hanno dato delle competenze, competenze tecniche, lingue, conoscenze informatiche, competenze personali e altro. Gli interessi, il volontariato, le potenti, eccetera. Dati anagrafici. Nome, cognome e non cognome-nome, che è troppo burocratico. Data e luogo di nascita. Attenzione, questi sono i dati anagrafici che si mettono in Italia. In alcuni paesi la data di nascita, per esempio, è un dato sensibile, perché non si possono fare discriminazioni sull'età. Quindi, prima di fare il curriculum per un altro paese, bisogna verificare proprio come è fatto il curriculum per quel paese e farlo in lingua, scriverlo direttamente in quella lingua e poi farlo assolutamente correggere ad un madrelingua. Allora, email e numero di telefono. L'indirizzo è sempre meno usato, perché è tipo il CAP. Nessuno ti manda più niente per posta, no? Però, invece, l'azienda è interessata a sapere dove sei nel mondo. Quindi, se ti puoi spostare, se sei vicino, se per te hai un problema, fare un'attività, che ne so, cinque giorni a settimana. Quindi, sapere dove sei è importante. I dati devono essere corretti e aggiornati. Se metti il numero di telefono, poi rispondi al telefono. E specialmente in ambiti come la comunicazione, è utile mettere anche i social. Metti il profilo LinkedIn, l'url proprio del tuo profilo, solo se l'hai perfezionato. Ed anche per questo ti possiamo aiutare. L'email deve essere sobria, seria, professionale, tipo nome, punto, cognome, chiocciola, esempio, gmail, punto com. Allora, è utile iniziare il curriculum vitae dicendo chi sei. Quindi, con un breve riepilogo. Il riepilogo mette subito in evidenza le informazioni che tu vuoi mettere in evidenza. Questo ti dà l'opportunità di mettere delle parole chiave. Considera che, specialmente all'estero e specialmente in multinazionali, la prima scrematura viene spesso fatta da una macchina. Quindi, il tuo curriculum viene scansionato. Le parole chiave che si ripetono, quelle utili, se ci sono, passa avanti. Se non ci sono, non passa. Quindi, le parole più importanti devono essere, vale, dove sono, cioè dove sono posizionate e quante volte si ripetono. Quindi, è veramente importante, poi ci torniamo a ragionare per parole chiave. Comunque, spararcene due o tre subito nel riepilogo è una buona idea. Il riepilogo deve essere breve, schematico, ed è un'occasione per te. È come se tu rispondessi alla domanda, mi parli di lei. O qual è il suo obiettivo, no? Cioè, quando una persona apre quel file, si sta chiedendo chi sei, che vuoi anche, no? Quindi, breve, breve, massimo 4-5 righe. Cosa sai? Quali sono le tue conoscenze, la tua formazione? Allora, il curriculum di uno studente o di una studentessa universitaria o anche subito, insomma, dopo la laurea, è opportuno che inizi con la formazione. La cronologia è sempre inversa, quindi si comincia dall'ultima esperienza, da quella attuale. Quindi, cosa fai adesso o l'ultimo titolo conseguito? Va bene? Quindi, inizia dal corso attuale, includi il voto solo se è ottimo o se è richiesto. Se il tuo corso è in lingua inglese, scrivilo. Corso interamente tenuto in lingua inglese, corso pensato in lingua inglese. Se ti sembra che siano utili al ruolo per cui ti stai candidando, puoi specificare due o tre materie di principale interesse, l'argomento della tesi, qualche modulo specifico, sei un progetto universitario specifico. Insomma, tutto serve sempre per mettere due o tre, un paio di parole chiave prima possibile. Cosa sai fare? Esperienze extrauniversitarie e competenze. Tutto quello che hai fatto, oltre a studiare, quindi nell'ambito accademico, laboratori, tirocini, essere stato studente, studentessa tutor, aver fatto parte di associazioni studentesche, della radio, giornalini, tutto ti può aver dato competenze, risorse utili, molto spendibili nel lavoro. Quindi l'azienda è molto interessata a quello che hai fatto. Qui ci sono tre esperienze, tre tipi di esperienza. Metti, cioè, per te non possono essere tutte importanti allo stesso modo. Sono tutte importanti, ma non tutte allo stesso modo. Quindi alcune andranno specificate meglio, altre semplicemente così accennate. Quindi, se hai fatto ripetizioni, babysitter, studentessa, tutor, qui, per studenti con disabilità. Ok. Competenze tecniche, le famose hard skills, quindi lingue, conoscenze informatiche. Qui ci sono due modi di descriverle. Uno, un po' più scritto, un po' più esplicito, quindi ogni competenza spiegata bene come l'hai acquisita, dove l'hai acquisita, e uno, un po' più contemporaneo, se vogliamo, così, infografica, a infografica, no? Quindi, le tue competenze e a quanto ritieni di averle. competenze personali. Qui si va più sul come sei. Questa forse è la parte più difficile e anche in questo possiamo aiutarti. Comunque, bisogna fare una riflessione, prima di tutto, su noi stessi, poi, sull'azienda e sul profilo professionale, cioè, come bisogna essere per fare quel lavoro, come bisogna essere in quel settore. Fatto tutto questo bilancio, si spiega quali sono le tue risorse e come, dove le hai acquisite. Qui, di nuovo, se la tua scelta è di un CV più grafico, puoi semplicemente metterle sotto forma di icona o come un'infografica. Altro. Altro, cioè, interessi, volontariato, attività sportive, patenti, progetti. Qui, il volontariato, per esempio, alcune volte, cioè, quando è molto attinente, per esempio, se tu fai cooperazione allo sviluppo, hai fatto volontariato in una cooperativa, in un ONG, quello va tra le esperienze professionali. Se invece hai fatto una cosa che non c'entra niente con il tuo profilo professionale, puoi andare in fondo al curriculum vitae. Molto importanti sono anche gli interessi personali. Se dicono qualcosa, se contribuiscono, qui vedete in rosso, interessi personali che non dicono niente, è in verde interessi personali utili a quel ruolo. Quando quello che ti interessa è, per esempio, una materia che sfiora la tua disciplina, che continua a essere intorno alle materie che ti piacciono di più, oppure che è comunque funzionale. Patenti, progetti, per esempio le patenti le mettiamo solo se sappiamo che per andare in azienda ci vuole la macchina, perché se sei a Milano e l'azienda è di Milano e ci arriviamo benissimo in metro, non c'è bisogno di inserire la patente. Di nuovo, parole chiave. Qui vedete un CV da lontano, appositamente da lontano. Qui le parole in tutto devono essere cinque, sei, tanto di più, non c'entrano nella testa in quei pochi secondi che diamo alla lettura del curriculum vitae. Se mi piacciono, mi interessano quelle parole lì, andrò avanti nel leggerlo nel dettaglio. Però la prima lettura viene fatta da lontano, quindi qui vedete già per un profilo di area marketing in una multinazionale queste parole chiave appunto. Non dovete ovviamente farle così grosse, però sì, metterle in evidenza, sì. Il curriculum viene valutato anche dai dettagli, cioè l'accuratezza, no? Da come salvi il file. Quindi salvalo bene, CV, cognome, nome. Oppure se tu ti stai facendo una candidatura spontanea in un'azienda grande in cui ci sono varie aree, sarà una gentilezza già dal nome del file far capire dove ti collochi. Quindi, non CV ultimissima versione, CV mio vecchio, numerini stravaganti. bene è trasformarlo in PDF e verificare come viene prima di inviarlo perché il rischio è che poi si spagini e si modifichi. in Italia va messa questa autorizzazione alla fine all'estero non è necessario perché si dà per scontato che se ti mando il tuo curriculum ti sto autorizzando a richiamarmi. Invece, va messa proprio questa dicitura autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e del regolamento UE 2016 679 ai fini della ricerca e selezione del personale. Dopo aver fatto del tuo meglio per scrivere e personalizzare il tuo CV soprattutto nel contenuto poi ci sarà modo via via di cambiare il formato però una volta per tutte scrivere bene tutte le cose poi metterai più o meno in luce di volta in volta alcuni aspetti senza togliere nulla. Una volta fatto questo chiedi pure un appuntamento a me cristina.rubegni chiocciola unisi.it per un check così come possiamo fare un check del tuo profilo LinkedIn della lettera motivazionale possiamo simulare un colloquio se tu mi dici che azienda o che profilo professionale facciamo una simulazione di un colloquio e poi possiamo anche fare un percorso di orientamento in più incontri se non sei sicuro o sicura di quello che vuoi fare possiamo ragionare sui tuoi obiettivi sulle tue risorse sui tuoi valori professionali per arrivare a un vero e proprio progetto professionale e fare insieme un piano d'azione in questo corso online trovi anche molte altre risorse per tutto il resto puoi chiedermi fare domande tutti i colloqui che facciamo li facciamo di persona o via Skype o come vuoi tu o anche per telefono o Grazie a tutti